Ciao a tutti, sono sempre Chiara Tartagni e oggi non ho più la mia bellissima felpa di Star Wars, però oggi ne approfitto per fare gli auguri a un altro regista che, al contrario di Romer, per fortuna non ci ha ancora lasciato, che è Peter Greenaway. Quindi oggi è il suo compleanno e nelle relazioni preziose ne parlo per un suo film che si chiama Il ventre dell'architetto. In realtà è un film strano per Greenaway, perché Greenaway è un regista barocco. È un regista barocco che però vede nel Settecento una risorsa di ispirazione molto particolare. Greenaway diceva, quando avevo 15 o 16 anni volevo fare il pittore. Poi alla scuola di Belle Arti mi sono reso conto di come il cinema fosse un mezzo ad espressione formidabile e il mio interesse si è spostato dall'immagine fissa all'immagine in movimento. Quindi quando si dice che Greenaway è un po' un cineasta pittore, lo si dice a ragion veduta. Il ventre dell'architetto parla invece di architettura. Architettura visionaria, architettura non realizzata, che è quella di Boulet, quindi un architetto appunto del Settecento, e di Storley Cracklight, che è questo architetto di Chicago, dell'epoca moderna, che cerca di organizzare una mostra appunto su Boulet a Roma. Però questo architetto a Roma, cosa tra l'altro autobiografica di Greenaway, si rende conto di non stare bene. Il ventre dell'architetto è quello di Cracklight, ed è un ventre presumibilmente malato, cosa di cui non avremo mai la certezza, però è anche il ventre che simboleggia la gravità, e infatti, guarda caso, ci sono continui riferimenti anche a Newton in questo film, che proprio all'inizio del Settecento pubblicava i suoi studi sull'ottica, e questo non è un caso, perché proprio nel Settecento gli studi di ottica e in generale sulla visione e sugli strumenti e dispositivi di visione raggiunsero un livello strepitoso, e dove cambia la visione cambia anche il modo di rapportarsi con la società, ed è per questo che Greenaway sceglie il Settecento e sceglie di frequentarlo in questo modo. Fra l'altro, lo stesso Boullée, che come dicevamo prima era un architetto visionario e totalmente irrisolto, perché il suo più grande progetto, il Cenotafio di Newton, sempre, non a caso, non è mai stato realizzato, così scriveva, Dominato da un amore eccessivo per la mia arte, mi sono completamente consacrato a essa. Nell'abbandonarmi a questa imperiosa passione, mi sono imposto, come legge, di lavorare per conquistarmi la stima pubblica, con sforzi utili alla società. Quindi una visione effettivamente illuministica dell'architettura, cosa che in Crack Light non è assolutamente così. Quindi Greenaway utilizza in questo caso il riferimento settecentesco, cioè Boullée, in realtà per parlarci della nostra relazione e della relazione di Crack Light, ovviamente, come nostra personificazione, con il mondo che ci sta intorno, perché l'architettura, secondo Greenaway, è appunto una delle maniere con cui l'uomo, l'essere umano, si relaziona allo spazio che ha intorno a sé. Quindi diciamo che in questo capitolo, appunto, sul ventre dell'architetto, è stato molto interessante analizzare il modo in cui un regista solitamente seicentesco sceglie di frequentare il XVIII secolo. Quindi sicuramente, ovviamente per contrasto, in modo non casuale. Quindi tanti auguri a Greenaway e un abbraccio virtuale a tutti voi. Alla prossima! Alla prossima!